Furio è stato recentemente premiato a un concorso di poesie dialettali? Sì, è Alzheimer, cioè proprio in bergamasco Alzheimer, non Alzheimer. No, ho pensato di scriverla perché ho avuto delle esperienze con gente che è appunto affetta da questa malattia e mi ha ispirato una poesia che poi è stata premiata. A Seriate nel 23esimo concorso di poesia dialettale Lombarda eravamo in parecchi, comunque sono soddisfatto non tanto e solo per il premio ma in modo particolare perché è stato premiato, diciamo così, un componimento che fa riferimento a una malattia che purtroppo è una tragedia per tante famiglie e per tante persone. Ce la puoi leggere? Alzheimer Lei legge la carola, la discute con la fiola Pencer che vi liga d'una ment sbrasida Tu sei mia la mia spusa, ma n'ha peur la mia spusa Sei mia la mia sorella, la prima, la più bella La par, non la sommea, la pensa senza brea Soi me o è la lei la spusa di quel te Ma si spusate a grom, oltata l'elto om, tu siete proprio una dama, tu sei mia mamma I regorci, sgombetta, la saseta moschetta, o mei una pipina da qui una picinina Mamma, molto bene, grazie estrense a te Adesso ti prego, mamma, cantiamo la nina nana La mamma faccia fiola, la bocca ingrignarela Col pensava che vanno le sa di un altro mondo